Ciao a tutti, io sono Veronica, una studentessa McLuhan e ho preso parte al project work per Amaduri. La richiesta, ovvero il brief, è provenuta da parte del reparto digital dell'azienda a supporto della divisione marketing e vendite e consisteva nella realizzazione di un piano digitale per la promozione di un prodotto della gamma. Gli obiettivi principali proposti dal brief erano essenzialmente due. Il primo era appunto la promozione e quindi anche l'incremento delle vendite di questo prodotto selezionato. In secondo luogo, vi era inoltre la necessità da parte dell'azienda di ottenere un numero significativo di lead qualificati, ovvero dei contatti che dovessero andare ad arricchire il database di Amaduri per consentire in seguito alcune pratiche di marketing, come ad esempio il ricontatto tramite newsletter oppure l'attivazione di alcune promozioni e scontistiche di genere. Per questo io e la mia classe abbiamo deciso di proporre un progetto di gamification da attuare attraverso tutti i canali ufficiali utilizzati dall'azienda e quindi non soltanto il sito istituzionale ma anche i principali canali social già posseduti da Amaduri, quindi ad esempio la fanpage di Facebook e il canale Twitter. Ovviamente tutto il progetto aveva anche delle limitazioni da brief che erano innanzitutto quella di essere essenzialmente un piano digitale che utilizzasse i canali già adoperati dall'azienda e quindi come ho già detto il sito oppure i canali social ufficiali. L'altra limitazione era dovuta al budget che era già stato deciso a monte dall'azienda e che noi dovevamo appunto rispettare. La terza limitazione che in realtà è stata anche fondamentale poi per la presentazione del progetto erano le tempistiche. Il progetto ci è stato presentato a ottobre e avevamo come scadenza di presentazione in marzo 2016. È stato proprio in occasione di questa scadenza che abbiamo ultimato il nostro progetto per presentarlo all'azienda e il progetto è stato accolto positivamente. L'idea della gamification è piaciuta molto e quindi abbiamo tratto anche noi la nostra dose di soddisfazione non soltanto perché siamo riusciti ad ultimare un progetto che ha poi avuto i suoi riconoscimenti da parte del cliente ma anche perché ci ha consentito di sviluppare proprio a livello pratico ciò che teoricamente abbiamo acquisito durante le lezioni del McLuhan.